Buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Luisa Damini e la relazione che vi presenterò è, la vedete dal titolo, copre attività di apprendimento linguistico in una prospettiva ecologica. Da dove nasce questa relazione? Nasce da due strade, diciamo così, intanto dall'esperienza di insegnamento. Io insegno da dieci anni nella scuola pubblica, ho insegnato prima inglese ai bambini della scuola primaria e ho insegnato poi italiano nella scuola secondaria di secondo grado. Al momento sono in aspettativa al congelo per studio perché sto svolgendo il dottorato di ricerca e proprio nel dottorato di ricerca sto lavorando sulle tematiche relative al cooperative learning e al lavoro sulle competenze interculturali. Mi sembrava bello introdurre questa relazione con questi versi di Antonio Macciado che leggo in italiano perché la mia pronuncia spagnola è pressoché il persino. Vi andate, sono le tue orme, il sentiero e niente altro. Vi andate, non c'è sentiero, diventa sentiero l'andare. Mi sembrava bello perché questa riflessione mi sembra ci porti bene all'interno dei sentieri della complessità che anche proprio, come dire, emotivamente ci fanno proprio comprendere come siamo all'interno di un percorso difficile, un percorso in cui le variabili sono tantissime. Non esiste più una direzione di senso verso cui vogliamo andare, vogliamo guidare i nostri studenti ma molteplici direzioni che scopriamo essere sempre interconnesse. Allora, che cosa significa nella società della globalizzazione camminare in una prospettiva ecologica? Dando a questo ecologica il significato profondo, il significato deep di cui parla Leo Van Dier nel suo ultimo testo. Che cosa significa in una prospettiva blocale cogliere la specificità accogliendo le differenze? E che cosa significa quindi in ultima analisi riflettere sull'interpuntura? Ora, questo sembra un ragionamento molto astratto e forse un po' lontano dalla pratica quotidiana, no? Però sono domande che fanno da sfondo ad ogni tipo di insegnamento linguistico direi perché insegnare lingua, ci sono studi che sono stati fatti in merito è chiaro che non è solamente, e chi insegna lingua lo sa benissimo non è solamente insegnare competenze di tipo linguistico, quindi delle abilità di tipo linguistico ma anche insegnare delle competenze di tipo interculturale che sono anche linguistiche, ma non solo. Allora, per iniziare questa nostra riflessione, bella anche questa affermazione di Maria Angela Giusti che conoscerete sicuramente come esperta della pedagogia interculturale. La pedagogia interculturale rappresenta i primi passi per fare proprio un pensiero complesso che ha la base di qualunque percorso di comunicazione e penso che questa riflessione possa proprio aiutarci nella necessità quotidiana per chi lavora in contesti eterogenei, dopo vedremo meglio cosa si intende per contesti eterogenei dal punto di vista culturale, la necessità, dicevo, di fare e di vivere l'intercultura. Per educare ed apprendere, in particolare il campo linguistico in una realtà che cambia è quindi fondamentale educare ed educarci a leggere le connessioni all'interno del mondo complesso ovvero a dare un senso a quell'inter che lega la cultura, che lega le culture che come sottolinea Mantovani è oggi immediatamente plurale anche nell'esperienza quotidiana che ne facciamo. Allora, cosa si cercherà di fare in questo intervento? Lo scopo è quello di dare delle piste operative, su cui poi spero ci sia il tempo di discutere per costruire dei percorsi di apprendimento in una prospettiva ecologica. Sicuramente la realtà in cui l'insegnamento, siete molti, la realtà di insegnamento che ci si trova quotidianamente a vivere è sicuramente diversificata per ciascuno, c'è chi lavora nella scuola pubblica, chi lavora nelle scuole di lingua private, quindi sicuramente le situazioni sono diversificate. Quindi anche i percorsi di apprendimento cercheranno un po' di essere modulati rispetto a queste situazioni diversificate. Io spero comunque che ci sia per tutti la possibilità di trovare dei suggerimenti su cui poi speriamo ci sia il tempo di discutere, proprio per riflettere sulla nostra pratica quotidiana di realizzare il processo di insegnamento, apprendimento. La sfida quindi è quella di superare attraverso questo tipo di metodologia l'inadeguatezza delle due risposte più comuni alla sfida posta dalla multiculturalità, l'etnocentrismo e il relativismo, e di superare anche quel multiculturalismo a mosaico che è lontano dall'idea di ecologia. Allora, intercultura ed ecologia, la prospettiva ecologica. La prospettiva ecologica è quella che accoglie le diversità, le contestualizza e le valorizza all'interno di un senso culturale ampio, complesso, interrelato, dove la cultura viene vista come spazio di scambio. Nello stesso tempo, la prospettiva ecologica sottintende un dinamismo delle parti in gioco. Il chi sono io è collegato al chi sei tu e ogni cambiamento di risposta alla prima domanda non può non cambiare la risposta alla seconda e viceversa. È il modello di sovrapposizione dinamica studiato da questi due ricercatori di origine indiana che hanno presentato il loro contributo all'ultimo convegno sul Cooperative Learning che c'è stato a Torino nello scorso anno. Gli atti del convegno saranno, penso il mese prossimo, disponibili nella rivista dell'IAIE, Intercultural Association of Intercultural Education, e della rivista dell'IAIE, in cui appunto verrà preso in considerazione questo tipo di ricerca. Cosa significa accogliere la complessità della relazione? Il riferimento teorico in questo caso è a Gartner e alle 5 chiavi per vivere e operare nel futuro. L'intelligenza, quello a cui dobbiamo educare, le chiavi che dobbiamo dare ai nostri studenti, sono le chiavi di un'intelligenza disciplinare, sintetica, creativa e che sia anche rispettosa ed etica. Ecco, questo diciamo è il quadro teorico, molto sinteticamente, in cui ci muoviamo per lavorare su questo tema, anche se ovviamente potremmo ampliare moltissimo i riferimenti teorici. Teniamo però presente questi per provare poi a riflettere in maniera più specifica sulle suggestioni che ci vengono da questa metodologia. Il cooperative learning, io non mi sono soffermata molto sulle definizioni del cooperative learning perché penso che per gli insegnanti di lingua sia una pratica abbastanza usuale e lavorare utilizzando questo tipo di metodologia, pur tenendo presente che, proprio come riferimento generale, come diceva appunto prima Christopher Hafris, effettivamente cooperative learning è essenzialmente estremamente diverso dal far lavorare gli studenti in gruppo. Ora, il fatto di far lavorare gli studenti in gruppo porta a notevoli problemi e facendo vari corsi di formazione agli insegnanti, questi sono anche un po' gli ostacoli che gli insegnanti vedono nel lavorare in gruppo. Nel lavorare in gruppo c'è chi si nasconde, c'è chi non parla mai, c'è chi poi vuole prendere sempre la parola e così via, pur riconoscendo nella maggior parte dei casi l'importanza dell'interazione all'interno del gruppo. Allora, come fare? Ecco, il cooperative learning tenda di dare una risposta, una risposta strutturata e diventa fondamentale per la realizzazione di una modalità di attenzione rispettosa, di riflessione e di autoriflessione. Diventa anche fondamentale per lo sviluppo delle abilità multiple, che sono un elemento fondamentale all'interno del più ampio contesto di insegnamento e apprendimento linguistico. Altre caratteristiche del cooperative learning presenta diverse strategie di intervento, aiuta a costruire un clima positivo e fecondo in cui ne sta agli apprendimenti, offre una vasta gamma di strategie di insegnamento per raggiungere obiettivi cognitivi e obiettivi di tipo interpersonale. Dicevo diverse strategie di intervento, oggi noi ne prenderemo in considerazione in particolare due, cioè la via della group investigation proposta da Shannon e la via invece della complex extraction, che è stata proposta da Cohen, da Elizabeth Cohen, che è deceduta un paio di anni fa, mi pare, e che viene ora seguita invece da Rachel Lotham, che è la ricercatrice che sta continuando il lavoro di Elizabeth Cohen. Dicevamo, ci sono diverse strategie di intervento, altre strategie di intervento fanno riferimento per esempio a quelle proposte dai fratelli Johnson o a quelle proposte da Slevin e altre. La cosa interessante è che queste strategie danno agli insegnanti, a chi lavora, la possibilità di avere una sorta di bacino di risorse, diciamo così, da poter utilizzare per gestire l'eterogenità all'interno dei propri gruppi classe e all'interno dei propri gruppi di lavoro. Una metodologia che si declina in tante strade, ma che sono accumulate dalla volontà di raggiungere obiettivi cognitivi e obiettivi relazionali che possono essere confrontati e confrontabili. Gli obiettivi cognitivi sono un apprendimento di tipo concettuale, una soluzione creativa dei problemi, lo sviluppo di abilità cognitive e di ordine superiore, ovvero uno sviluppo del pensiero critico, la conoscenza e mantenimento e miglioramento delle abilità fondamentali, padronanza linguistica orale, obiettivi relazionali, relazione positiva e di intergruppo, socializzazione degli studenti e assunzione di ruoli adulti. E' quindi a questo punto fondamentale chiedersi se e in che modo attraverso il cooperative learning possano essere raggiunti obiettivi tanto diversificati. E' possibile tentare di dare una prima risposta, riflettendo su questi due elementi fondamentali. Innanzitutto il fatto che la ricerca sui modelli di cooperative learning ha verificato la validità di tutti i loro assunti di base sugli effetti positivi dell'apprendimento in interazione sul comportamento scolastico degli allievi, personale e sociale. Sono stati fatti vari studi in merito, molti di questi sono stati riassunti nei testi di Comoglio, che è uno dei massimi esperti italiani, forse il massimo esperto italiano di cooperative learning, ed effettivamente il lavoro attraverso modalità interazionali, però strutturate, ha dato sicuramente risultati di tipo positivo. In attività che prevedono l'uso di modalità cooperative, l'insegnante propone gradualmente strategie sempre più complesse, come il GXO, la Complex Extraction, la Group Investigation e altre che propongono agli studenti questioni rilevanti e punivalenti e invitano a una varietà di risorse e soluzioni. Mi sembra interessante sottolineare proprio questo delle questioni rilevanti e plurivalenti, su cui molto spesso è importante concentrarsi come insegnante, e anche a questa varietà di risorse e soluzioni. Prima dicevamo tante strade, è un po' questo, lo vedremo poi anche lavorando in maniera più specifica le caratteristiche della Group Investigation. l'invito attraverso questa metodologia a co-costruire le risposte e anche a co-costruire le domande, che è altrettanto importante. Porsi domande è sicuramente il momento principale del percorso di insegnamento e apprendimento ed è anche quello che piano piano anche si perde, chi ha magari l'esperienza anche di genitori, forse vede come i bambini mano a mano crescono, pare che facciano meno domande. Io ho bambini piccoli che mi rientrano di domande, lavoro con gli adolescenti a scuola che devo stimolare continuamente perché pongano domande. Allora, queste strategie prevedono che gli studenti svolgano l'attività in piccoli gruppi eterogenei, imparando a ricercare soluzioni connettendo la loro esperienza e background culturale con le nuove informazioni, imparando via via a sviluppare e a connettere nel contempo abilità sociali e abilità cognitive in un'ottica di un'educazione più integrata e più potremmo dire ecologica. Ecco, questa parola ecologica tornerà spesso, tornerà spesso proprio perché è una parola che può essere declinata in tantissimi modi diversi e che proprio il fatto che rimandi a questa complessità e a questa globalità, a mio modo di vedere, è estremamente affascinante. Il problema della scuola è stato a volte, prima lo diceva anche la professoressa Rosalba, non mi ricordo il cognome, parlava proprio delle parti in cui molto spesso si struttura il processo di insegnamento. Ecco, un lavoro di questo tipo aiuta a leggere le varie parti e a leggere le relazioni tra le parti e anche nello stesso tempo a leggere la relazione tra le parti di cui è costituita una persona, quindi il fatto che ciascuno di noi è sociale, è emotivo, è cognitivo e così via. E questa strategia del cooperative aiuta moltissimo a leggere questo tipo di prospettiva. Allora, i nuclei forti del cooperative learning sono essenzialmente cinque, sono quelli che accomunano i diversi studiosi che hanno declinato appunto questa metodologia in altre strade diverse. Allora, l'interazione promozionale faccia a faccia, l'interdipendenza positiva, l'insegnamento diretto delle abilità sociali, il lavoro in piccoli gruppi eterogenei, la valutazione durante e alla fine del lavoro. Su questi ci sarebbe moltissimo da discutere per ciascuno di questi, ma naturalmente questa non è la sede. Vorrei riflettere soprattutto sul lavoro in piccoli gruppi eterogenei, perché è questo il punto che ha creato effettivamente delle situazioni di disaccordo tra i vari studiosi. Perché tuttavia la maggior parte ha propeso e propende per la necessità dell'eterogeneità dei gruppi. Poi c'è naturalmente tra gli studiosi di cooperative learning, penso ad esempio a Spencer Kagan, che sottolinea come ci siano delle attività, per cui è importante che i gruppi invece siano più omogenei, ad esempio operabilità. Ma poi ci sono dei contesti in cui, lo vedremo, penso a chi, soprattutto a chi insegna nella scuola pubblica, effettivamente l'eterogeneità all'interno del contesto classe è un particolare, una caratteristica assolutamente ineliminabile. Anche su questo, gruppi eterogenei e gruppi omogenei sono stati fatti molti studi. Ora, mi pare che nel 2006 sia venuto Giorgio Chiari qui e confrontandomi con lui anche prima di questo intervento, diceva che appunto aveva lavorato, aveva dato alcune indicazioni rispetto ad alcuni studi che erano stati fatti su gruppi eterogenei e gruppi omogenei. Ora, nei gruppi omogenei, intesi omogenei come per livello, abilità, competenze, solo apparentemente appare che appunto questa omogeneità possa essere una risorsa. Gli alunni infatti sembrano imparare più velocemente senza incontrare ostacoli, l'insegnante sembra procedere spedito nella trasmissione dei contenuti, ma si vede che effettivamente ci sono dei limiti in questi gruppi omogenei. In essi infatti gli studenti hanno un accesso differenziato ai curriculum che tende poi a concretizzarsi in opportunità educative diversificate. C'è poi la tendenza a verificarsi in essi della cosiddetta profezia autoalberante. Essi quindi condizionano fortemente le attese degli insegnanti nei confronti degli allievi. E nell'interno dei gruppi omogenei si tende spesso a enfatizzare piuttosto che a ridurre nelle classi le differenze culturali ed etniche. Allora, diceva un piccolo passo indietro. Che cosa si intende per gruppi eterogenei? La letteratura li definisce proprio così. Gruppi che mostrano differenze interne di background, di livello di capacità di genere. È interessante notare che il cooperative learning, alcuni filoni del cooperative learning che hanno, sono stati, hanno sì, diciamo, particolare negli Stati Uniti e qui sto pensando in particolare agli studi di Elisabeth Cohen, sono stati pensati proprio, è stata fatta ricerca proprio all'interno di quei contesti in cui l'eterogeneità rappresentava un problema, cioè la differenza di status culturale rappresentava un problema. C'è da dire che poi questa differenza di status culturale rappresenta a volte un problema anche nelle classi odierne. Sono stati fatti vari studi per riflessioni di riflessione su come gli studenti e soprattutto gli studenti adolescenti intendono la diversità e che tipo di valore danno alla diversità. Ora, riferendosi a studenti e adolescenti è chiaro che questa riflessione sulla diversità diventa molto forte e fa riferimento anche ad una particolare fascia d'età che stiamo analizzando, ma è sicuro che una riflessione di questo tipo induce anche altri tipi di riflessioni che spaziano anche nel campo dell'intelligenza rispettosa ed etica di memoria gardeneriana di cui dicevamo prima. Ci sono alcuni presupposti teorici sull'importanza di valorizzare, cioè l'importanza di lavorare sfruttando al massimo l'eterogeneità del gruppo e il fatto che ci troviamo di fronte a gruppi eterogenei. Qui ne ho citati solamente alcuni, i gosti, quindi le teorie sulla self-regulation e sulla teorizzazione della zona di sviluppo prossimale, per cui le funzioni psicologiche di ordine superiore si svolgono attraverso l'interazione sociale. Piaget, per cui l'interazione fondamentale per il passaggio dallo stadio preoperatorio a quello concreto, in cui i bambini diventano meno egocentrici e riconoscono le differenze e i disaccordi tra le idee proprie altui, avviene proprio attraverso il confronto. Poi va dura la teoria del social learning che mette l'accento sulle strategie di modeling. Anche su questi ci sarebbe moltissimo da dire, ma non mi soffermo. Pertanto ci sono delle basi teoriche sull'importanza di lavorare sfruttando e valorizzando l'eterogeneità dei gruppi e ci sono delle contingenze che ci fanno lavorare con i gruppi eterogenei. Queste contingenze possono essere riferite ad esempio, per quanto riguarda la scuola pubblica, al crescente a flusso di studenti stranieri all'interno dei gruppi classe a tutte le età scolastiche, ma per chi lavora invece nelle scuole di lingua lavorare con l'eterogeneità culturale chiaramente è un dato di fatto. Quindi creare dei setting di apprendimento che siano adeguati alla valorizzazione dell'eterogeneità culturale. Allora, dicevamo, lavorare questi setting di apprendimento sono riconosciuti nel cooperative learning. Ci sono poi dei problemi concreti nella gestione del lavoro di gruppo, quanto deve essere grande il gruppo, quali modalità a seguire per la formazione dei gruppi, quanto tempo possono durare i gruppi, se sono del tutto da escludere attività individualistiche e competitive. E qui questi li ho inseriti proprio perché solitamente sono le domande che poi vengono più spesso poste dagli insegnanti e con alcune risposte. Il gruppo dovrebbe essere tanto più piccolo quanto più gli studenti non possiedono buone qualità o abilità comunicativa. Formare i gruppi può essere fatto in base a vari criteri, poi vedremo qual è un criterio che può valorizzare l'eterogeneità. Ci sono vari criteri, scelta casuale, scelta degli insegnanti, autoselezione. Ognuno di questi ha dei limiti, ha dei vantaggi. I gruppi vanno tenuti insieme fino a raggiungere un successo, le attività competitive individuali possono vivere in competizione sana tra i gruppi. Quando è che un gruppo diventi inefficace? Ci sono delle situazioni in cui è bene pensare che effettivamente non ha senso lavorare in gruppo, non ha senso utilizzare il cooperative learning. Questa è una domanda che viene posta molto spesso. In realtà ci sono delle situazioni in cui, faccio un passo indietro, il cooperative learning prevede che il lavoro in gruppo non sia immediato, cioè che ci siano fasi di riflessione individuali, quindi fasi di lavoro individuali, in modo tale che poi ci sia la possibilità di condividere la propria individualità all'interno del gruppo. Un gruppo, vediamo che è inefficace, è importante vedere quali sono i momenti, i punti per cui è inefficace proprio per lavorare su questi. Alcuni non lavorano e lasciano il peso ad altri, non ci si aiuta per raggiungere un compito, ci si insulta e ci si critica in modo dirompente, non si riflette su come migliorare la comunicazione. In aiuto a questo tipo di difficoltà viene l'insegnamento diretto delle abilità sociali di cui dicevo prima, di cui dicevo all'inizio. Vediamo ora alle nostre piste operative. Innanzitutto il lavoro in gruppo, quindi pensare ai gruppi. I gruppi devono essere pensati dall'insegnante, guardando alla globalità del compito da svolgere, offrendo una pluralità di stimoli, in modo che più abilità possano essere esercitate e riconosciute come tali. Quindi anche il compito che vogliamo proporre ai nostri studenti, l'attività che vogliamo proporre ai nostri studenti, può essere intesa, diciamo così, ecologicamente. Qual è il senso dell'attività svolta in forma cooperativa? Il fatto che il poco di ciascuno può fare il mondo di tutti. Sembra uno slogan, ma in realtà è quello che dovrebbe diventare una coscienza di una realtà. Significa aiutare gli studenti nella conoscenza, prima a riconoscere le proprie capacità e a orientarle, a sentirsi consapevoli e in qualche misura forti di queste ultime. Quindi un lavoro in cui l'individualità non viene schiacciata all'interno del gruppo, ma in cui l'individualità serve per il raggiungimento di uno scopo. La coscienza di possedere un'identità è un elemento imprescindibile per accogliere l'altra identità e per arrivare ad una negoziazione di punti di vista diversi. In questo momento, pensando al lavoro in particolare con gli adolescenti, facevo un accenno prima, vediamo come questo diventa particolarmente educativo in una fase dello sviluppo in cui si è educato proprio al raggiungimento di un'identità. Allora, due pistole operative. Allora, fare ricerca utilizzando la lingua, il metodo della gruppo investigation. La seconda, la context extraction e la scoperta delle abilità. Allora, fare ricerca utilizzando la lingua. Cosa propone questo tipo di metodologia? Allora, il metodo della gruppo investigation è stato proposto da Sharon e Sharon, che sono due studiosi di cooperative learning, nessuno di questi in realtà si occupa d'altro, che lavorano nell'università di Telamito. Allora, si tratta di una strategia di apprendimento cooperativo in cui l'interazione e la comunicazione in classe vengono integrate con il processo di studio dei contenuti scolastici. Gli studenti assumono un ruolo attivo stabilendo i propri obiettivi di apprendimento, suddividendo con l'aiuto dell'insegnante il lavoro all'interno del gruppo. Prevedono momenti di lavoro individuale a scambi in coppia e ad un'integrazione finale dei risultati a livello del gruppo classe. Così facendo, gli studenti vengono guidati da un lato nello sviluppo di competenze linguistiche cognitive e naturalmente di competenze di tipo sociale. Vediamo sempre come c'è proprio questa unione molto forte di questi due aspetti. In quest'ottica l'uso della lingua diventa situato e significativo. Non esiste più la netta divisione tra la lingua per l'uso e la lingua per lo studio. Con questo non si vuole disconoscere l'importanza della presenza di microlingue all'interno del percorso di lavoro e di insegnamento della lingua dello studio. Ma quello che è fondamentale riconoscere in questo, che peraltro è sottolineato anche da Ballier nel suo ultimo testo, è proprio questo apprendimento situato della lingua, che è situato e nello stesso tempo significativo. Quindi lo studente viene visto come persona, portatrice di significati, di punti di vista, di prospettive, di desideri, di aspirazioni, scientificamente potremmo dire di un sistema culturale, che attraverso il medio-linguistico può condividere con altri per reinterpretare, mediare e così via. L'obiettivo di lavoro è quindi quello di parte degli insegnanti di presentare un problema che diventa un oggetto della ricerca di diversi gruppi e promuove la collaborazione. Allora, ora vedremo molto brevemente le fasi del lavoro e poi vedremo quali sono le fasi di lavoro secondo questa metodologia e poi vedremo un'applicazione pratica di questo tipo di metodologia ad un problema, ad un contesto di apprendimento specifico. Allora, di fronte al tema della ricerca, gli studenti esaminano il materiale che hanno a disposizione, pongono le domande in relazione ad esso e le suddividono in categorie che diventano i sotto-argomenti. Gli studenti formano il gruppo studiando il sotto-argomento da loro scelto. In un secondo momento pianificano le loro ricerche, i membri di ogni gruppo preparano cooperativamente lo svolgimento dell'attività, decidono come condurre la ricerca e come dividersi il lavoro. Conducono quindi le ricerche, raccolgono e analizzano le informazioni, riportano ciò che hanno scoperto, giungono a delle conclusioni e discutono i ritiri del proprio lavoro. In un quarto momento pianificano le loro presentazioni, quindi pianificano come presentare gli esiti delle varie di quanto hanno scoperto e presentano poi le loro ricerche. Ora, è evidente che questo tipo di attività può integrare nel caso, penso ad esempio, di un'attività che viene svolta all'interno di un gruppo classe di una scuola pubblica, ad esempio, naturalmente prevede anche l'utilizzo della lingua madre, diciamo così, però quello che è significativo è proprio questa pluralità di stimoli che viene offerta e proprio questo ruolo attivo degli studenti che, se per esempio si ipotizza che le presentazioni vengano realizzate appunto nella lingua diversa dalla lingua madre, quindi fanno un passaggio in più rispetto all'utilizzo solito, diciamo così, della lingua. L'efficacia di questa strategia è un aumento dell'interesse da parte degli studenti a contenuti più strettamente cognitivi dell'apprendimento, la potenzialità della conversazione interattiva, l'abilità di porre domande e l'uso della lingua situato e significativo. Ok, allora, il ruolo del docente, qual è il ruolo del docente all'interno di un contesto di tipo cooperativo? Sicuramente quello di essere un modello educativo, le strategie di modeling poi diventano fondamentali anche per l'apprendimento delle abilità sociali che sono fondamentali per svolgere un lavoro di tipo cooperativo, ma è un modello educativo che dimostra concretamente quale tipo di abilità di discussioni sono necessarie all'interno del gruppo. Quindi promuove la discussione e invita anche a dare struttura, in qualche modo anche la discussione, metà delle strutture linguistiche utili per la prosecuzione della discussione, progetti e attività che facilitano l'apprendimento interattivo per problemi in modo da aumentare le opportunità di comunicazione non mediate tra compagni. Le proposte, per esempio, per quanto riguarda questo, il riferimento, questo è il raggio a quattro stadi, è una proposta, dopo avete la fotocopia, è una proposta di Sheram, diciamo un'attività di gruppo, in cui si guidano gli studenti a riflettere su alcuni principi cardine che devono regolare la comunicazione, cioè la concisione, l'ascolto, la capacità di concisione, scusate, la capacità di ascolto, la capacità di riformulare, la capacità di dare un proprio contributo. Vedendo il, adesso lo sto passando alla fotocopia, vedete anche come questa, in un contesto poi di apprendimento dell'arrivo, possa essere utilizzata proprio anche come forno, come un'attività possibile proprio per un contesto di apprendimento linguistico. Allora, vi dicevo un esempio di pianificazione di un esempio realizzato, vivendo una pianificazione di attività con la gruppo investigation. Un'unità è didattica sulla poesia, esempio, che cosa rende poetica una poesia? Allora, la classe viene divisa in gruppo, ad ogni gruppo viene affidata una poesia che deve leggere il gruppo, su cui si deve proporre un breve commento. Allora, nella prima fase la classe stabilisce i sottoargomenti e si organizza in gruppi di ricerca, quindi, data la poesia, produrre delle domande significative su questo. Quindi, vengono realizzate, viene fatto un brainstorming sulle domande possibili, vengono individuati dei sottoargomenti, ad esempio, quali sono gli elementi fondamentali della poesia, in che modo il poeta è influenzato dalla società e dalla cultura, vengono formati i gruppi di ricerca e i gruppi, quindi, pianificano le loro ricerche. Torno indietro un attimo, i gruppi lavorano su una possibile domanda, cioè i gruppi cercano una risposta alla domanda e molto spesso avviene così in questo tipo di strategia, che mentre la formazione dei gruppi non è spontanea, proprio per quello che dicevamo prima, è spontanea invece la decisione di tutto il gruppo di rispondere ad una domanda piuttosto che un'altra rispetto alle domande che sono state fatte all'inizio nell'attività di brainstorming. Quindi, gli studenti in qualche modo cercano una risposta a quanto più, a ciò che veramente interessa come risposta, come domanda, scusate. Bene, allora, organizzazione del gruppo, segnazione dei ruoli, individuazione delle risorse necessarie. E, evidentemente, per rispondere a delle domande, per rispondere in maniera significativa a delle domande, non si può basarsi sul secondo me o io penso che è necessario che ci siano dei materiali da leggere. Per cui, il ruolo dell'insegnante è quello di tornare materiali, materiali che, lo vedremo poi nel prossimo esempio di attività, possono essere di vario genere. In questo caso stiamo parlando di materiali scritti, ma possiamo avere anche altri tipi di materiali. Per cui, si integra anche questa abilità di decodifica di materiali diversi, materiali diversi che hanno linguaggi diversi, che usano strutture diverse. I gruppi conducono le ricerche, insegnanti intanto fatti da supervisore, i gruppi pianificano le loro presentazioni, i gruppi poi effettuano la loro presentazione. Questo ruolo di supervisore dell'insegnante, che vedete che c'è in tutte le fasi, è fondamentale. All'interno del contesto di lavoro cooperativo, l'insegnante ha effettivamente più tempo, mettiamolo tra virgolette, di osservare gli alunni e osservare varie risposte degli alunni. E' chiaro che poi è necessario costruire anche una sorta di griglia di osservazione rispetto a ciò che si può osservare. L'ideale sarebbe, ed è ipotizzato in particolare dai Johnson, che ci sia un contesto di lavoro in cui più insegnanti utilizzano lo stesso tipo di metodologia e quindi possono condividere le griglie di osservazione, che cosa osservare. E poi abbiamo questa valutazione del lavoro. In una prima lezione c'è una fase di coppie di gruppo, in che modo la conduzione della ricerca di gruppo vi ha aiutato a conoscere qualcosa di nuovo sulla poesia, che cosa sai di nuovo rispetto all'inizio, quindi questo connettere tra di loro le informazioni. E poi una fase individuale, una fase individuale che prima anche collega parlava del problema dei programmi e anche del fatto che comunque ci deve essere anche una valutazione, diciamo così, personale, ecco, permetterei di aggiungere rispetto a quello che diceva la collega, ecco, è possibile conciliarlo con un'attività di questo tipo. Allora, le attività esemplificate possono anche essere esemplite quindi di obiettivi di tipo cognitivo se condotti in un contesto di apprendimento di una seconda lingua, naturalmente graduando le difficoltà, il numero di parole, i tempi e così via. Allora, qui, ecco, solamente due parole sull'importanza di fare domande all'interno di tutti gli apprendimenti, ma in particolare direi dell'apprendimento linguistico e sulla possibilità di cercare insieme delle risposte secondo questo schema domande, discussione, informazione, interpretazione, conoscenza. L'idea è quella che all'insegnante non compete di dare tutte le risposte, ma di aiutare a costruire delle domande e di aiutare a cercare quali sono gli strumenti per ottenere delle risposte. In questo cercare di cercare le risposte c'è un scatto in più, dicevo prima, dell'apprendimento linguistico. Bene, vado un po' veloce perché vedo che è già a mezzogiorno e cinque. Ecco. Allora, dicevo all'inizio due strade. Da un lato questo metodo è fare ricerca insieme, dall'altro la complex interaction. Allora, cos'è questa metodologia? È un programma partito vent'anni fa nell'Università di Stanford con Elizabeth Cohen. Attraverso questo programma ci si prefigge di realizzare l'equità in classe studiando le cause sociali delle disuguaglianze di base e costruendo delle pratiche educative basate sulla cooperazione. È una modalità che muove dal riconoscimento della pluralità delle intelligenze. Il disinterimento è sempre a capire. Cosa dice sostanzialmente la complex interaction? Che la formazione di piccoli gruppi, anche se eterogenei, comunque in generale tende a favorire gli componenti più forti degli gruppi, cioè quelli che già hanno uno status elevato a livello di riconoscimento sociale ma anche di riconoscimento culturale. Diciamo così, sono i più bravi. Il problema qual è? Quelli più bravi rimangono sempre più bravi, quelli meno bravi rimangono sempre meno bravi. E studi fatti da Elizabeth Cohen hanno notato che comunque il corporate learning anche se cerca di opporsi a questo tipo di stato di cose di fatto non riesce in realtà ad andare più in fondo. Quindi qualcosa bisogna cambiare. E il qualcosa che bisogna cambiare Elizabeth Cohen lo riconosce nella pluralità delle intelligenze e quindi nell'importanza di costruire compiti che prevedano l'uso di abilità multiple. richiaggono quindi queste caratteristiche. Più di un modo o di una risposta per risolvere un problema, siano di per sé interessanti e gratificanti, permettano ad alunni diversi i dati e i contributi diversi, usino strumenti multimediali, coinvolgono più sensi, richiedono una varietà di abilità e comportamenti, siano impegnativi. Su questi strumenti multimediali non c'è solamente il riferimento a internet, computer, eccetera, ma proprio ai vari linguaggi, quindi arte, quindi musica e così via. Secondo Elizabeth Cohen un compito non funziona bene, questo ci interroga secondo me come insegnanti, quando ha solo una risposta esatta, può essere eseguito con più velocità ed efficienza da una persona piuttosto che da un gruppo, è di livello troppo basso, implica la semplice memorizzazione o apprendimento di routine. Lo scopo di questo tipo di attività è quello di combinare le aspettative di ciascune delle aspettative, proprie in quanto insegnanti o di ciascuno studente verso se stesso, di ogni studente verso gli altri, per poi ricombinarle. E quindi di creare un ventaglio di aspettative, dando una pluralità di strumenti, ciascuno può sperimentarsi in una tipologia di apprendimenti diversi. Le caratteristiche fondamentali sono tre, quindi i compiti, le accessite di diverse abilità interdirettive, nessuno ha tutte queste abilità, ognuno ha qualcuna di queste abilità, perciò il compito deve per forza essere svolto insieme. Anche qui un esempio di attività che è stata realizzata, effettivamente l'esempio, io ho guardato i vari esempi, questo anche se forse è più datato, perché del 1989-90 mi sembrava quello più significativo, perciò ho voluto proporvelo ugualmente. Allora, agli studenti viene proposto di riflettere su un tema, questo era il tema proposto, ruggente, anni 20, il periodo tra 1919 e 1920. Questo è il tema da trattare, quindi l'insegnante decide di lavorare su questo tipo di tematica con gli studenti. Allora, propone e decide di proporre modalità di tipo cooperativo. La prima pianificazione è questa, sono tre lezioni, tensioni post-war, la Repubblica al Potere, tensioni sociali e trasformazioni, l'insegnante fa una lezione di tipo introduttivo, poi dà dei testi che vengono approfonditi dagli studenti in gruppo. Questi testi vengono approfonditi, ci sono, dicevamo prima, vedete una lista di obiettivi che si devono raggiungere, un eletto di materiali da consultare e un eletto di procedure da seguire, per cui hanno questi testi, sanno che su questi testi, io ho solamente messo questo, ma era spiegato particolarmente bene, poi come veniva realizzata l'attività. Poi su questo tipo di testi gli studenti lavoravano, quindi riassumevano, oppure producevano delle domande, oppure facevano degli schemi, così via, e lavoravano appunto comunque su questi testi che venivano forniti dall'insegnante e questo è un primo tipo di pianificazione. Secondo esempio di pianificazione, invece, usando la complex extraction. Allora, introduzione con otto slide che presentano attraverso opere artistiche dell'epoca il problema, con particolare riferimento all'episodio di Sacco e Vanzetti, quindi non c'è in questo caso l'introduzione orale da parte degli insegnanti. in piccolo gruppo, gli studenti preparano una presentazione che drammatizza il caso di Sacco e Vanzetti, drammatizza nel senso non una recitina, vero, qualcosa che sia per esempio, non lo so, un dialogo, o un piccolo testo, ecco. nella seconda lezione la Repubblica e il Potere invece di dare un testo, in questo caso, meglio prima di dare il testo, vedete che poi c'è riscontro sui testi, vengono date agli studenti, vengono fornite agli studenti una serie di vignette che facciano anche satiriche, quindi un altro tipo di intelligenza, che facciano riferimenti al riferimento ai personaggi politici più influenti dell'epoca e si chiede agli studenti di interpretarle che cosa vorranno dire le caratteristiche che vengono presentate anche in modo satirico di questi personaggi, rivedo alcune frasi, e quindi un riscontro sui testi quello che abbiamo supposto era vero oppure no. Terza lezione, tensioni sociali e trasformazioni, lettura e preparazione di una presentazione multimediale sull'argomento utilizzando materiali di approfondimento, testi, immagini, fai musicali, bibliografia. Ogni gruppo, abbiamo detto che lavora ogni gruppo, si concentra su un aspetto diverso del problema, ad esempio il ruolo delle donne oppure l'avvento del cinema. Allora, in entrambi i casi è stata utilizzata la modalità cooperativa e in entrambi i casi ogni studente aveva un ruolo all'interno del percorso. Dicevamo prima che una delle problematiche del lavoro in gruppo è quello che c'è chi tende a nascondersi, in realtà il cooperative learning risponde con la possibilità di dare dei ruoli precisi ad ogni studente all'interno dei gruppi. Qui ne sono stati segnati alcuni, facilitatore, controllore dei tempi, segretario, presentatore, responsabile delle abilità sociali che si vuole raggiungere, non so, uno studente ha il ruolo di fare in modo che tutti parlino a voce bassa. Ecco, uno ha il ruolo di timer, quindi di controllare il suo interno dei tempi, uno ha il ruolo della busta dei materiali, quindi se c'è qualcuno di assente deve spiegare che cosa è stato fatto e così via. Il contenuto è il medesimo, ma le differenze rilevanti sono che gli studenti utilizzano più abilità e il loro status ne risulta modificato, perché molto spesso gli studenti non sono consapevoli delle abilità che possiedono e non sono riconosciuti per le abilità che effettivamente possiedono perché molto spesso non sanno nemmeno di possederle. Non sentono le aspettative dell'insegnante che inizia l'attività per esempio con una semplice affermazione, uno storico per essere tale deve essere in grado di lavorare su più documenti. Oggi lavoreremo mettendoci nella parte degli storici, per cui non vedremo cosa riusciremo a fare in base a un determinato contenuto, ma ci metteremo nell'ottica di una situazione situata e specifica. Per utilizzare più abilità devono incrementare l'uso dell'interazione verbale e questo mi sembrava particolarmente significativo perché effettivamente quello che poi viene maturato in questo tipo di lavoro è proprio l'utilizzo della necessità dell'interazione verbale. Quindi il cooperative learning pare una strategia particolarmente efficace per l'apprendimento linguistico. Ci sono studi che vedono come ci sia una stretta connessione tra i modelli e i metodi con cui si costruisce il processo di apprendimento l'insegnamento e l'apprendimento linguistico e quelli fondanti del cooperative che fanno riferimento a tre processi basilari e lasciano aperti anche dei nomi che problematici io ne ho identificati quattro ma poi possono essere vari. Allora innanzitutto il fatto che attraverso il cooperative learning e attraverso queste strategie che vi ho presentato che mi sembravano le più significative c'è un'esposizione alla lingua più possibile e varia poi il fatto che l'interazione tra studenti e studenti all'interno del gruppo porta alla definizione di ruoli diversi per addentrare al compito da svolgere e quindi maggiori possibilità di porre domande di chiarire significati di leggere il percorso educativo da più punti di vista e poi il fatto che all'interazione segue necessariamente la negoziazione che spinge a rivedere i propri punti di vista le proprie precomprensioni i propri pregiudizi e qui entriamo in tutto quel sviluppo delle competenze interculturali che spengono appunto con questo tipo di attività certamente ci sono dei nodi critici ad esempio come creare attività cooperative che stimolino le zone di sviluppo prossimale o come creare delle proficue interrelazioni tra competenze orali e scrittura qui in realtà abbiamo parlato più di competenze orali come bilanciare l'intervento degli insegnanti e l'interazione tra pari questo è un altro modo problematico come lavorare nella fase del silenzio che chi lavora per esempio con gli studenti stranieri appena arrivati conosce sono domande su cui ancora gli studiori stanno cercando una risposta e non è possibile appunto dare una risposta definitiva e quindi volevo concludere il mio intervento con una frase di Kagan che è uno degli esperti mondiali che mi sembra riassuma però il senso dell'importanza di lavorare insieme se rimaniamo isolati rischiamo di non vedere la forza della grande foresta che siamo per cui è quello che questa forza di diventare una grande foresta è quello che invitiamo i nostri studenti di spiegare qual è il metodo che usa il coperative learning nella valutazione allora per quanto riguarda il discorso della valutazione è effettivamente uno dei nodi più grossi proprio per quanto riguarda il coperative learning e ci sono anche varie strade no e varie teorie in base a questo allora prendiamo ad esempio partiamo da una ad esempio quella di Comoglio la via è proposta da Comoglio che è quella della valutazione autentica quindi quella Comoglio e anche le Rani che lavorano molto sulla valutazione autentica in questo caso si prevede di costruire delle prove di verifica che siano situate cioè che prevedano l'utilizzo di non tanto di conoscenze che cerchino di valutare non tanto le conoscenze acquisite quanto le competenze e le competenze acquisite nascono dalla capacità di risolvere il problema significativo che è alla base di tutto il processo ad esempio la domanda base da cui è partito tutto il percorso la domanda significativa che è stata trovata che è stata pensata con gli studenti in realtà poi questo tipo di valutazione autentica all'interno della scuola in particolare della scuola pubblica risulta difficilissimo perché in realtà il tipo di programma di programmazione è completamente diverso allora quello che adesso diciamo una mediazione vi dico sul problema della valutazione si stanno facendo molti molti studi quindi in realtà il problema è di per sé estremamente complesso anche perché poi si tratta ad esempio di valutare vari tipi di abilità delle abilità di tipo sociale ma anche delle abilità delle conoscenze e così via che naturalmente non possono essere valutate con gli strumenti tutte con gli strumenti di valutazione tradizionali intendo dire l'abilità di rispettare il turno di parola difficilmente può essere valutata con 7 8 9 5 ecco allora prima parlavo delle griglie di valutazione per quanto riguarda questo tipo di valutazione è importante fare riferimento a delle griglie di valutazione che contengono gli obiettivi che lo studente insegnante o meglio il team di insegnanti perché in realtà il grosso limite all'interno per esempio della scuola pubblica è che magari il cooperative learning lo utilizza l'insegnante di lettere ma l'insegnante di matematica assolutamente no perché non lo ritiene efficace quindi è importante costruire delle griglie di valutazione che permettono di vedere il processo con cui si arriva al raggiungimento di un'abilità sociale e quindi viene valutato questo tipo di processo valutazione che insieme anche a autovalutazione perché anche gli studenti sono chiamati a valutare se hanno raggiunto determinate abilità sociali e le valutano sia all'interno del loro gruppo di lavoro sia all'interno del con una discussione più ampia all'interno del gruppo classe per quanto riguarda invece che poi è quello che magari a volte interessa di più cioè la valutazione delle conoscenze prima facevo un accendo per quanto riguarda la gruppo investigation ma questo riguarda anche altri tipi di lavori viene previsto che alla fine del percorso ci sia un momento di valutazione individuale che in qualche modo corrisponde al nostro compito in classe diciamo così o test finale diciamo che quello a cui tende questo tipo di metodologia è lo stesso la stessa cosa diciamo del brutalmente dell'insegnamento frontale ma è proprio il processo che è diverso quindi questo è proprio molto concretamente poi sul come costruire delle griglie di valutazione che valutino anche tutto il processo e non solamente il risultato su questo ci sono moltissimi studi io li inviterei a leggere anche alcuni articoli di Ellerani proprio su questo e così via che prevedono tuttavia un lavoro un forte lavoro di team all'interno del gruppo insegnante perché il gruppo insegnante perché evidentemente appunto è impensabile una prospettiva in questo caso verrebbe da dire proprio ecologica che un ragazzo acquisisca delle abilità sociali con l'insegnante di lettere le stesse abilità sociali non con l'insegnante di matematica o non con l'insegnante di geografia ecco quindi a quello metterei a leggere proprio quei testi di Ellerani che ha proprio scritto un testo sulla valutazione ecco io devo dire che proprio volutamente non sono entrata proprio nello specifico della valutazione perché avrei dovuto parlare solo di questo e comunque non avrei esaurito il tema c'è da dire che proprio perché è problematico imita proprio la riflessione perché del resto se noi pensiamo la necessità di raggiungere delle competenze interculturali e civiche è quello che ci viene dato anche dal quadro di riferimento di Lisbona per cui è proprio una necessità iniziare a pensare in questo modo e non iniziare a pensare che la competenza diciamo interpersonale possa essere misurata dal punto di condotta diciamo così ecco e per esempio quello che stiamo cercando di fare con gli insegnanti che sono coinvolti nella ricercazione che sto conducendo come lavoro di dottorato di ricerca è proprio quello cioè quello di costruire delle griglie concrete osservabili su queste abilità di tipo sociale chiamiamole sociale chiamiamole tipo interpersonale e così via che poi dovrebbero condurre a quelle competenze di tipo interculturali che sono necessarie poi per vivere per lavorare per stare nella società complessa però effettivamente è vero questo discorso della valutazione è molto problematico perché certamente laddove è possibile pensare che per il diciamo il prodotto cognitivo si possa pensare ad una valutazione univoca che poi anche è libero cioè è tutto da vedere per le abilità di tipo sociale è certamente più complesso ed è proprio qualcosa di nuovo su cui stiamo iniziando a lavorare come insegnanti direi no? grazie a tutti grazie a tutti